E del resto a me non è chiaro perché in un momento come questo, con i problemi che abbiamo, non guardo solo alla crisi internazionale, non guardo solo alla pandemia, guardo alle aziende che rischiano ai chiudere, al caro benzina, al caro grano, il governo mette praticamente la fiducia sulla sua esistenza sulla revisione delle stime catastali, ma non le sembra che qualcosa non torna? Perché se no a occhio le priorità sarebbero altre. Capirei se Draghi mettesse il suo futuro sulla vicenda, non lo so, del caro benzina, ma no sulle stime catastali, qualcosa non funziona.